Nel specifico si tratta della prima mostra che farà parte del progetto Natale dell'Artista di Montecatini che andrà avanti fino al Natale 2013. Abbiamo questa e poi per altri tre anni. Si tratta per quest'anno della mostra diffusa, come hai detto giustamente te, di Marco Lodola, uno degli artisti italiani più conosciuti in campo internazionale. In questo momento infatti Marco Lodola ha questa mostra a Montecatini, un'altra a Milano e un'altra a Parigi che è stata inaugurata domenica scorsa. Poi uno degli artisti di punta sarà uno degli artisti degli eventi alla prossima Biennale di Venezia. Sgabbi l'ha chiamato per un'installazione sul Canal Grande, ha già partecipato alla scorsa Biennale, è presente in moltissime città di tutto il mondo e quindi per noi è stata un'occasione per la quale dobbiamo ringraziare l'azienda Mirabili, i fratelli Overi e le CNA di Pistole che ci hanno supportato a punto di vista come sponsor per realizzare questa mostra che altrimenti da noi sinceramente, viste anche le riduzioni di tagli che ci sono al campo culturale e non saremmo stati in grado di mettere in piedi. Un turista che viene in centro a Montecatini non fa altro che guardare le opere che sono nella piazza, e sono due, una nella sede del comitato che organizza tutte le manifestazioni che ci sono nel periodo natalizio a Montecatini, poi passa dal Palazzo Comunale, poi lo stabilimento Excelsior, la sede del Mondiale di Ciclismo 2013 e la mostra si finisce proprio al tettuccio con il grande albero di Natale che due anni fa illuminava Piazza Navona a Roma e in fondo dentro il bacio è proprio l'ultima estrazione che si chiama Vende e quindi lì uno capisce che la mostra è finita. È stato un anno molto intenso e quindi nel 2009 abbiamo cercato di portare in fondo quelle che erano state le iniziative della passata amministrazione, giustamente anche perché c'erano stati degli impegni presi e abbiamo rispettato quegli impegni. Poi quest'anno l'idea è un po' anche di cambiare il concetto di cultura a Montecatini, limitatamente sempre con le risorse che ci sono. Abbiamo avuto Time Out che è stato un bel evento di sport, il Festa della Cultura Sportiva che ripeteremo nel primo weekend di giugno del 2011. Abbiamo avuto Montecatini Time in Contra con la presenza di personaggi di giornalisti come Bea, Telese, Marcello Veneziani, comici come Giobbe Covatte e Vergassola, Galeazzi, Maria Grazia Capulli, quindi tanti personaggi che hanno alletato i pomeriggi durante la stagione da settembre a novembre dei visitatori di Montecatini, dei turisti e dei Montecatini si stessi. Poi abbiamo questa cosa qui e il prossimo anno ci sono tanti progetti, considerato anche che puntiamo molto anche sull'arte contemporanea, in questo momento in sala consigliare non c'è il Mirò perché per la prima volta, dopo 30 anni il Mirò si è andato da Montecatini e a Pisa la mostra monografica che viene fatta su Mirò e fino ad oggi sono 35.000 le persone che hanno visto il nostro quadro per la prima volta. E poi volevi sapere del futuro, allora del futuro il Mirò resta a Pisa, dopodiché vedremo, c'è una possibilità, c'è una richiesta a Bruxelles, quindi il quadro comincia a farsi conoscere ma la cosa bella è che va a giro e in fondo c'è una bella tag che dice il comune di Montecatini Time e quindi fa da ambasciatore. Ma non sarà solo quella, qui dove siamo noi a pochi metri qui sotto a febbraio-marzo partiranno i lavori per la Galleria Civica d'Arte Contemporanea, quindi uno spazio che manca, Montecatini non ha un museo vero e proprio, questa sarà una galleria civica interamente dedicata all'arte contemporanea dove collocheremo il Mirò quando rientrerà dal suo tour e altre opere che fanno parte della collezione del comune, più ci sarà uno spazio, un laboratorio per i ragazzi delle scuole per avvicinarsi all'arte contemporanea, diciamo che l'idea è pretenziosa ma quella di far diventare la Galleria Civica di Montecatini che si chiamerà Mac Terme, una specie di piccola tette moderna con il rispetto delle proporzioni. L'altro spazio che andremo ad inaugurare ora a gennaio, a primi di febbraio sarà il Mac Terme Temporary Art nella Lazzi, dove c'è la ex Lazzi, sarà una galleria rivolta che vuole essere una sede di confronto fra i giovani artisti emergenti e artisti affermati, sarà uno spazio che non si sa per quanto sarà aperto, per quanto parte nei lavori sarà distrutto, però è un po' quella che è l'arte contemporanea, quindi in quel caso temporanea. Poi il grande evento della prossima stagione, del prossimo anno, che non sarà solo un evento italiano, perché a questo punto, vista anche quello che sta accadendo, sarà una delle poche uscite che faranno i quadri degli uffizi da Firenze, avremo da marzo fino a giugno 60 opere del 500 e del 600 per questa mostra di quadri mai visti, perché sono quadri mai usciti da Firenze, che allesteremo nello spazio espositivo delle Terme Temporary Art è una mostra che stiamo organizzando insieme alle Terme, quindi portare gli uffizi a Montecatini penso che sia una cosa, come dice qualcuno, il più grande museo del mondo e quindi averlo qui per noi un onore, dopo vedremo che cosa fare, perché con gli uffizi non penso che si possa andare, però insomma intanto questa è una cosa positiva e poi a dicembre arriva il secondo appuntamento di Natale d'artista con un altro artista contemporaneo che sparà le sue opere a Montecatini, mostra diffusa anche quella lì. Ma io dico sempre ogni volta che presento qualcosa a chi arriva benvenuto nella città Termale più bella del mondo, il tettuccio è lo stabilimento Termale più bello del mondo, quindi vale già la visita, tra l'altro è una cosa che abbiamo concluso ieri, 26-27 marzo avremo le giornate del FAE, quindi Montecatini sarà il punto delle giornate del FAE e la gente verrà per vedere lo stesso comune che è un'opera d'arte, perché basta guardare su in alto e vediamo le affresche velare di Galileo Chini e speriamo il prossimo anno di essere qui con un'altra intervista tua, anche ricordare che non solo abbiamo, siamo nella città Termale più bella del mondo, abbiamo lo stabilimento Termale più bella del mondo, ma nel prossimo dicembre speriamo che siano finiti e di poter inaugurare anche la piscina Termale più bella del mondo dell'architetto Fucsas a Lelo Poldine.